Allora, sinteticamente possiamo dire che a causa di computer cellulari e tablet, oggi uno dei grossi problemi che coinvolge i nostri giovani, ma non solo, è lo stress da luce blu. Questa può andare a incidere sia su quello che è la parte della disidratazione corneale, sia proprio sullo stress causato dalla continua attenzione a questi device. Oggi cosa potremmo fare? Possiamo in primo luogo fare un controllo specifico della capacità e della qualità della nostra visione. Quindi parliamo di controlli visivi presso ottici optometristi riconosciuti, come ovviamente un controllo da un oculista, che è sempre consigliato. Dopo di ciò possiamo anche pensare, laddove non è necessaria una correzione specifica, di utilizzare dei presidi anche estremamente economici, perché parliamo di occhiali che vanno sui 30-40 euro, che ci possono comunque proteggere da questa luce blu. Soprattutto se passiamo tante ore, come i ragazzi che oggi fanno tanta didattica a distanza, o anche il semplice pensionato che la sera si diletta a fare ricerche su Google o quant'altro. Ad oggi è un fenomeno più diffuso con i giovani oppure con gente di età e fasce più adulte? Sicuramente i nostri giovani sono più soggetti e più colpiti da questo fenomeno. Oltre all'uso spropositato dei cellulari, i ragazzi a causa del Covid sono comunque costretti alla didattica a distanza. Ovvio che questo non aiuta sul discorso della luce blu. A maggior ragione tutti quelli che accusano particolari fastidi come bruciore, come affaticamento, pesantezza, sono quei soggetti che possono andare incontro a problematiche maggiori, e di conseguenza sicuramente soggetti che vanno controllati ed eventualmente pensare ad un ausilio specifico per la riduzione di questo fenomeno. L'orario più sbagliato per l'utilizzo del cellulare ce n'è uno? Sicuramente i specialisti sconsigliano l'uso del cellulare o del tablet o del computer prima delle ore notturne. Quindi sicuramente come spesso accade che il ragazzino o la ragazzina si mettono sul letto a guardare i video, i film, prima di andare a letto, sicuramente questo è un fenomeno che andrebbe sconsigliato. Se noi prima questi fenomeni li riscontravamo nei soggetti che passavano esclusivamente ore davanti al computer, per studio, per lavoro, ma parliamo quindi di persone che andavano dai 16 ai 18 anche oltre 20 anni, oggi questi fenomeni li riscontriamo in ragazzini di 5, 6, 7, 10 anni. Quindi è ovvio che il fenomeno sta crescendo, ecco perché la tecnologia sta andando sempre più incontro alle esigenze dei nostri ragazzi.